Come? Come reagirei io se Donnarumma arrivasse allo Juventus? Visto che ho fatto un video pochi giorni fa dove dicevo la mia sul caso Donnarumma davvero contrario alle sue scelte, alle scelte del suo procuratore vi faccio questo video qua che in molti anche mi hanno chiesto sotto nei commenti a quel video come la prenderio nel caso se Donnarumma arrivasse allo Juventus partiamo prima da un presupposto, partiamo prima del lato sportivo e poi il lato umano legato anche ad altri fattori ovviamente ragazzi se uno non dovesse guardare il lato umano, il lato soldi e tutto quello indubbiamente uno sarebbe contento se Donnarumma approdasse nella propria squadra il cuore nel senso sappiamo tutti che un grande portiere è un portiere veramente forte con un futuro davanti bellissimo e giovane quindi sicuramente sarebbe il portiere perfetto per qualsiasi squadra quindi ti direi da uno che non conosce Donnarumma e non sa niente del caso che è successo lo accetterei volentieri Donnarumma nella mia squadra questo non posso dirvi di no e quindi vi dico di sì assolutamente lo accetterei non dovessi conoscere tutti quei fattori mentre invece io conosco tutti gli altri fattori e vi posso dire che non avrei più cose per non prenderlo che invece che prenderlo perché Donnarumma se lo prendi innanzitutto sì puoi fare un contratto magari di 5 anni però non sei sicuro che lui dura tutti quei 5 anni perché? perché dietro di lui c'è una gente che conosciamo come Mino Raiola che da un momento all'altro si può svegliare un giorno e dire no io adesso te lo porto via basta non vogliono più stare qui con te e te lo porti in un'altra squadra perché in un'altra squadra gli danno un milione in più quindi questo è anche una cosa che secondo me va a incidere e che ha inciso anche perché nel non proseguimento di Donnarumma col Milan quindi anche Donnarumma sì magari dovesse arrivare la Juve non sarei contento dal lato sportivo come vi dicevo prima però non avrei quella sicurezza di dire oh ok adesso ho trovato Donnarumma sono a posto per i prossimi 10 anni sono a posto in porta perché sarei al 99,9% che Donnarumma se dovesse mai approdare l'eventus non farebbe più di 3-4 anni secondo me perché poi c'è tutto il lato economico perché poi si va in scadenza di contratto perché poi ha un agente particolare come Mino Raiola perché poi Mino Raiola appena trova un'altra squadra che gli dà quel milione in più lui va dall'altra parte non gli frega niente della storia dell'appartenenza alla Maia quelle cose lì a Donnarumma e a Mino Raiola non interessano per niente loro interessano purtroppo i soldi e quindi sì sarei contento dal lato sportivo però poi dal lato umano sinceramente non sarei per niente contento perché sono sicuro che in squadra avrei sì un grandissimo portiere però avrei una persona, avrei un giocatore che non appena troverebbe una squadra che gli dà quei due soldi in più che lui vorrebbe che magari l'eventus non gli dà in quel momento se ne va tranquillamente dall'altra parte senza nessun rimpianto, senza nessun malore quindi questa è una cosa che sinceramente a me non piace questo è anche un po' quello che è successo col Milan che gli dava 8 milioni all'anno lui ne voleva 12 insieme al suo agente Mino Raiola e così non si è arrivati a rinnovo si parla che potrebbe arrivare la Juve a 6 milioni all'anno questo non so se è una cosa veramente vera però dovesse succedere anche questa cosa sarebbe un po' io la chiamo un po' una presa per il culo per i tifosi del Milan perché Milan ha fatto vedere che ci teneva tanto a Gigi Donnarumma le parole di Maldini sono sempre parole da grande professionista e il comportamento di Donnarumma e del suo agente è tutt'altro che bello anzi molto irrispettoso verso il club che ti ha fatto crescere ma questo argomento vi ho già parlato quindi vi dico dovesse arrivare qua Gigi Donnarumma sul lato sportivo non conoscendo quello che è successo e tutto il resto sarei contento però poi vado a guardare quello che è successo il lato umano non è di certo la miglior persona su quell'aspetto che non appena troverebbe una squadra che gli da magari qua la Juve ne prende 7 ma l'altra squadra gli ne da 9 lui va quello dove c'è 9 perché per questi calcatori qua c'è poco affetto alla maglia l'ho dimostrato colmina ragazzi possiamo tranquillamente dire queste parole questo è un po' quello che penso se Gigi Donnarumma dovesse arrivare qua la Juventus da una parte sarei felice per il lato sportivo perché è un gran portiere e bisogna dirlo dall'altra parte sinceramente non mi garberebbe molto perché sarei sicuro che non potrebbe fare più di 3-4 anni l'Iventus perché poi si andrebbe un po' sempre puoi parlare sempre nel discorso di soldi visto che tra Mino e Rai e Donnarumma ci si diverte molto a parlare dei soldi e c'è poco affetto per il club che l'ha fatto crescere ci sarebbe poi poco affetto per il club in cui magari giocare agli anni prossimi Donnarumma questo è quello che penso pollicione sul video iscrizione al canale ragazzi noi ci vediamo un prossimo video bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi